La fusione tra due aziende è andata in porto senza il coinvolgimento del sindacato. Insomma, un matrimonio senza testimoni che è costato alle imprese TaxJet e rifinizione chiara diventate TaxJet Group, la condanna del Tribunale di Prato per comportamento antisindacale. Sono state Filctem CGL, Fem Cacisle e Wiltec Wil a portare davanti al giudice del lavoro l'imprenditore Roberto Ilardi per aver fatto delle sue aziende un tutt'uno saltando il passaggio obbligatorio con i sindacati. Chi ha intenzione di fare un trasferimento d'azienda deve comunicare alle organizzazioni sindacali 25 giorni prima che l'atto di trasferimento d'azienda abbia delle conseguenze, in modo che le organizzazioni sindacali possano chiedere un incontro e fare partire un esame congiunto della durata di 10 giorni. Questo avviene in modo che le organizzazioni sindacali possano verificare se le cose sono state fatte bene a tutela dei diritti dei lavoratori. Le tre sigle hanno portato al giudice gli elementi utili a ricostruire la vicenda che comincia a fine del 2017 con una prima modifica all'assetto societario e poi c'è un ulteriore mutamento a febbraio. Nel primo caso non c'è stato l'esame congiunto che invece si è tenuto nel secondo caso quando però il passaggio societario era già stato perfezionato. Per il distretto credo sia un messaggio importante perché rimette al centro la figura delle relazioni sindacali. Non può funzionare così un distretto che per anni ha invece costruito la sua fortuna proprio attraverso le relazioni sindacali. Questo è un distretto dove siamo distinti per un dialogo e per gestire le cose come sono previsti dalla legge. Se qualcuno pensa di fare i trasferimenti d'azienda saltando il sindacato, di fare qualsiasi procedura che prevede una consultazione sindacale, un accordo sindacale saltandoci, ci troverà davanti al Tribunale. Il legale delle imprese, Michela Venturi, precisa che è stato fatto tutto il possibile per rispettare